Togliamo perciò via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché voi siete azimi in Cristo. Celebriamo dunque la festa, non con il lievito vecchio, né con il lievito di malizia e di perversità, ma negli azimi di sincerità e di verità. Sono le parole dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, Cristo è risorto, Cristo nostra Pasqua è con noi e noi insieme con Lui celebriamo il passaggio, il passaggio dall'uomo vecchio all'uomo nuovo, il passaggio dalla vita di peccato alla vita di grazia, il passaggio dalla vita in noi alla vita in Lui. E tutto questo comporta una purificazione profonda di tutto ciò che è in sincerità in noi, tutto ciò che è menzogna, tutto ciò che è odio, rancore, peccato. Ecco perché all'inizio di questa celebrazione noi invochiamo il Signore Gesù, Lui che è verità per noi, sincerità per noi, Lui che è grazie per noi, Lui che è purificazione per noi, Lui che è vita per noi, di immergerci in sé, di rinnovarci in modo che possiamo emergere in Lui creature nuove. Sì, oh Signore Gesù, noi chiediamo in questo momento il Tuo Spirito, perché si rinnovi in noi la Tua resurrezione. Invochiamo il Tuo Spirito, perché quello Spirito che ha risuscitato a Te dei morti ci risusciti dal nostro vecchio uomo e ci faccia vivere la Tua vita, purificandoci dalla mente e nel cuore dei nostri peccati, togliendo in noi l'albito della morte e ridonandoci l'albito bianco della vita. Oggi è la festa dei bianchi, cioè del sabato in albis. Oggi vestiamo ancora di bianco, ricordando della grazia di Dio che ci è stata donata. Riviviamo questa festa, mettendoci la veste bianca della grazia e smettendo ancora una volta l'albito vecchio, l'albito della malizia e dell'insincerità. Spirito del Dio vivente ha crescido l'amore. 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 Fiamma Spirito del Dio vivente, scendi su di noi! Spirito del Dio vivente, scendi nella mia mente e porta la luce, porta la porta nuova nel mio cuore. Lo Spirito del Dio vivente porta la vita, la salute nel mio corpo. Spirito del Dio vivente, scendi su di me, pulire il mio peccato, libera da tutte le malattie, da tutte le infermità, a una pianta nuova, finito del Dio vivente. Spirito del Dio vivente, scendi su di me, pulire il mio cuore. Spirito del Dio vivente, scendi su di me, pulire il mio cuore. Spirito del Dio vivente, scendi su di me, pulire il mio cuore. Spirito del Dio vivente, scendi su di me, pulire il mio cuore. Spirito del Dio vivente, scendi su di me, pulire il mio cuore. Spirito del Dio vivente, scendi su di me, pulire il mio cuore. rinnova la mia vita. Tutti insieme cantiamo a Lui e risorto in mezzo a noi. Tocca il Spirito di Dio, tocca i nostri cuori e le nostre venti e esprime la gioia dei risorti. Spirito di Dio, aprirò i sepolcri perché tutti veniamo incontro a Cristo, Signore. Io. ... ... ... ... ... Vioglia divina, ruggiata e luminosa, scenda la tua acqua a irrorare questi figli nati dall'alba. L'alba, 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 l'alba. L'alba, 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 l'alba. L'alba, 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 l'alba. L'alba, 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 l'alba. L'alba, 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 l'alba. L'alba, 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 l'alba. verso gloria a te o Signore gloria a te o Signore o Cristo che dal petto squarciato sulla croce hai fatto scaturire i sacramenti della nostra salvezza gloria a te o Signore o Spirito Santo che dal grembo benedetto della Chiesa sei fatto rinascere come creature nuove gloria a te o Signore o Dio che raduni la tua Chiesa, Spose e Corpo del Signore nel giorno memoriale della Resurrezione benedici il tuo popolo era viva in noi per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo e la grazia nella prima Pasqua e nel Battesimo per Cristo nostro Signore Amen preghiamo un momento preghiamo un momentino in silenzio perché la grazia dello Spirito scende dentro di noi perché gorgoglie dentro di noi il canto nuovo il canto della gioia un momentino in silenzio perché lo Spirito Santo determina in noi il canto nuovo e noi tutti possiamo cantare il gloria al Signore per la vita nuova che ci ha donato vi ho dato il comandamento nuovo che vi amiate gli uni gli altri ma voi non potete osservare questo comandamento e vivere l'amore senza il mio Spirito per questo io pregherò il Padre ed egli vi darà l'altro consolatore perché rimango con voi per sempre lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce ma voi lo conoscete perché io ve l'ho dato egli rimore dentro di voi e sarà con voi e voi potete osservare il mio comandamento amatemi gli uni gli altri nello Spirito Santo e sarete i miei discepoli grazie Signore perché Tu ci hai dato il Tuo Spirito ci hai messo così in condizione di amarci gli uni gli altri e di ristare nell'amore fratelli e sorelle questo è il comandamento del Signore rimanere nel suo amore questa è la vita che noi ci amiamo gli uni gli altri chi non ama la morte se volete vivere israeliti amatevi gli uni gli altri in quello Spirito che io vi ho donato e la vita che germoglia sulla morte lasciate la morte lasciate i vostri sepolcri lasciate tutte le vostre miserie voi siete i figli della vita vivete amatevi gli uni gli altri come il Padre ha amato me e io ha amato voi e vivrete grazie Signore preghiamo oh Padre che nella Tua immensa bontà estende a tutti i popoli il dono della fede guardi i tuoi figli di elezione guarda questa assemblea di credenti nel tuo figlio diretto perché esteri nati nel battesimo ricevono la veste candida della vita immortale per il nostro Signore Gesù Cristo tuo figlio che è Dio e viveregno con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli grazie a tutti grazie a tutti dagli atti degli apostoli in quei giorni i principi dei sacerdoti e gli anziani vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e considerando che erano senza istruzione e popolani rimanevano stupefatti riconoscendoli per coloro che erano stati con Gesù quando poi videro in piedi vicino a loro l'uomo che era stato guarito non sapevano che cosa rispondere gli fecero uscire dal sinedrio e si misero a consultarsi fra loro dicendo che dobbiamo fare a questi uomini un miracolo evidente è avvenuto per opera loro esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo ma perché la cosa non si divulghi più tra il popolo diffidiamoli dal parlare più ad alcuno in nome di lui e richiamateli ordinarono loro di non parlare assolutamente né di insegnare nel nome di Gesù ma Pietro e Giovanni replicarono se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più che a Lui giudicatelo voi stessi noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato quelli allora dopo averli ulteriormente minacciati non trovando motivi per punirli li rilasciarono a causa del popolo perché tutti glorificavano Dio nell'accaduto è parola di Dio pregiamo grazie a Dio il Signore sia con voi e con il vostro dal Vangelo dal Vangelo secondo Marco gloria a Dio Signore risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato Gesù apparve prima Maria di Magdala dalla quale aveva cacciato sette demoni quest'anno ad annunziarlo ai suoi seguaci che erano in lutto e in pianto ma essi udito che era vivo ed era stato visto da lei non vollerò credere dopo ciò apparve a due di loro sotto altro aspetto mentre erano in cammino verso la campagna anche essi ritornarono ad annunziarlo agli altri ma neanche a loro volerò credere alla fine apparve ai undici mentre stavano a mensa e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato Gesù disse loro andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura parola del Signore la festa della luce e la festa del Signore che si impone sulle tenebre e annuncia la verità si impone sulla morte e annuncia la vita per tutti andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura questo è il comando del Signore predicate con la vostra vita che Cristo è risorto fratelli e sorelle noi siamo gli annunciatori della resurrezione di Cristo con la nostra vita noi siamo la lettera scritta dal Padre agli uomini in noi bisogna venere Cristo cioè gli uomini devono poter leggere Cristo risorto perché questo è il messaggio che il Padre ha inviato agli uomini ognuno di noi è una lettera di Cristo una lettera scritta dal Padre con lo stile dello Spirito per dire che Cristo è risorto ed è risorto in noi e noi l'annunziamo con la nostra parola e la nostra vita questa è la vera predicazione a tutte le creature del cosmo alle creature che noi vediamo alle creature umane come noi ma a tutte le creature del mondo a tutto il cosmo perché Cristo è risuscitato come principio di vita per tutto quanto l'universo e noi siamo i predicatori alla creatura dell'universo che Cristo è il nuovo centro vitale e risorto e tutti tutti gli uomini e tutti gli esseri sono chiamati alla redenzione e al rinnovamento che avviene appunto in questo principio vitale Cristo e Gesù tutta la creazione aspetta aspettato questo momento e il momento è venuto il dado è gestato e gettato la semente è stata gettata della nuova rinascita di tutta la creazione in Cristo Signore e noi siamo i testimoni vivi di questa operazione divina operata in noi da Dio Padre Onnipotente in Cristo Gesù questo è il giorno fatto nel Signore radeghiamoci e risultiamo ma se noi presentiamo un volto di morte se noi presentiamo abiti vecchi dov'è questa lettera scritta dal Padre se i nostri vestiti sono stracciati e non sono natuni con consutili di Cristo se il nostro volto è sfigurato dov'è questa lettera scritta agli uomini dal Padre dov'è il nostro volto raggiante della luce del risorto dov'è la nostra resurrezione ecco allora l'invito a riprendere forza vita da Cristo Signore per fare risplendere sul nostro volto la sua resurrezione ecco l'invito a camminare per le vie del mondo lasciando alle nostre spalle le miserie ecco fratelli e sorelle Maria di Martala la bella di Cristo perché ha cacciato da lei sette demoni con lei che era la donna più brutta perché aveva sette demoni è diventata nelle mani di Cristo la bella dello spirito ed è la prima ad annunciare a tutti che Cristo è risolto ecco gli altri apostoli che sono attorno a Gesù i quali prima erano paurosi ed essi davanti al sinedrio si presentano dicendo noi non possiamo crescere noi quello che abbiamo visto quello che abbiamo operato nel nome di Cristo dobbiamo annunziarlo e inutilmente voi ci proibite di parlare di lui noi parleremo con franchezza bastonateci pure metteteci in prigione noi siamo l'annuncio di Cristo Cristo è risolto Cristo è venuto Cristo è Dio ecco la trasformazione una trasformazione anche dalla folla la folla che prima aveva gridato crucevige crucevige adesso diventa carenzie per gli apostoli il sinedrio treva davanti alla folla quella folla che aveva obbedito a loro adesso si ribella e quella folla acclama gli apostoli e fa paura al sinedrio che ha le mani legate perché per paura della folla non può bastonare non può ibrigionare gli apostoli è la trasformazione dello spirito lo spirito trasforma è lo spirito di Cristo e se noi non siamo trasformati questo spirito di Cristo non ha operato in noi figli miei se non si vede nel vostro volto la resurrezione di Gesù noi per conto nostro non possiamo annunciare al mondo che egli è risorto se i nostri gruppi hanno le vesti stracciate non la tunica inconsutile di Cristo non possiamo presentarci al mondo non possiamo essere annunciatori della vita nuova ecco allora la nostra responsabilità oggi oggi abbiamo vestito di bianco oggi è il sabato in albis e domani la domenica in albis cioè il vestito bianco i cristiani per otto giorni vestivano di bianco non si lavorava per otto giorni si faceva festa era la settimana di Pasqua si faceva festa tutti i vestiti di bianco camminavano per annunciare che c'era ormai una vita nuova noi abbiamo dimenticato tutto questo un cristianesimo così addomesticato addormentato mondanizzato le vesti bianche le vesti bianche fratelli e sorelle le vesti bianche per annunciare a tutti che Cristo è risorto che una nuova vita è germogliata in noi che sul peccato si è innestata la grazia che sulla morte si è innestata la vita che sul volto di morte c'è il volto della resurrezione che sull'uomo vecchio c'è l'uomo nuovo Cristo Signore questo è il grande annuncio che dobbiamo dare al mondo questo è l'annuncio che in altri gruppi debbano dare agli uomini non addormentiamoci svegliamoci svegli a tutti che dormi Cristo ti illumina annuncia a tutti gli uomini che Cristo è risolto è risorto in te e dovrà risorgere in tutti questa è l'annuncio della resurrezione fratelli e sorelle che noi abbiamo dimenticato che noi più non riviviamo ma questa mattina il Signore ci richiama e ci dice popolo mio popolo mio perché non sei vestito di bianco perché non annunzi che io sono irrisolto popolo mio che io l'ho detto con il mio sangue dove è la tua gioia dove è la novità della vita non hai più la gioia non hai più la pace non hai più la vita non annunzi ormai a nessuno tu non sei annunziatore della mia resurrezione mentre io ti ho cosiddito annunziatore della mia resurrezione tu avevi il peccato dentro di te tu eri Maria Maddalena con sette demori addosso ed io ti ho liberato tu eri come Pietro tu eri come gli apostoli che sono fugiti tu eri come tanti che erano abattuti tu eri come quello sciancato alla porta bella ed io ti ho risuscitato ti ho dato la vita ti ho fatto bello annunzia annunzia a tutti quello che io ho fatto per te annunzia a tutti che io sono il Signore l'unico Signore svegli i tuoi fratelli annunzia a tutti che la resurrezione è per tutti e che Cristo è risuscitato per tutti questo è il nostro compito personale il nostro compito di gruppo il nostro compito di nuovo mente dello Spirito questa è la voce che lo Spirito grida alla Chiesa ascoltiamo la voce dello Spirito quello che lo Spirito dice alle Chiese alle Chiese d'Italia alle Chiese del mondo alle Chiese cristiane annunciate Gesù perché il mondo ha bisogno di Gesù ha bisogno di vedere il risorto di vedere gli occhi folgoranti di vita perché c'è anelito di vita in tutti ma tutti non sanno vedere dove la fonte della vita è soltanto in Cristo Signore costui il Padre stabilito nel mondo perché fosse l'esorgente della vita credete in Cristo e vivrete di vita mille ashanah capaya evere kintu stanay akho marakini akreber entiano kityan asha shurim intiano koh mili titi astana kah etu mere kityan usci an akinto oggi si è ascoltata la voce del figlio di Dio voi che ancora siete le sepolcro uscite voi che ancora giacete nelle vostre miserie rialzatevi voi che ancora dubitate credete e annunziate a tutti fratelli e sorelle i sepolcri sono aperti le prigioni si sono aperte e c'è questa parola del signore uscite uscite e quanti voi siete nelle celebre venite fuori incontro a cristo signore alleluia alleluia signore questa è la parola d'ordine che tu dai a tutti uscite incontro a cristo signore io sono il liberatore colui che vi liberato dalla morte colui che vi risuscita nei vostri sepolcri uscite incontro a me sono io che apro le vostre prigioni le prigioni del peccato le prigioni della miseria uscite venite incontro a me io vi abbraccio io sono la vita gioite e dimenticate il passato ormai la nuova vita è risolta in voi la vita del risolto che sono io alleluia alleluia con potenza risuscita con potenza risuscita tutti insieme om potenza risuscita om potenza risuscita om potenza risuscita risuscita om potenza risuscita 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 lo spose qui la spose pronta a vestire di bianco ecco io vengo a incontro a voi vi do il mio pane il pane della gioia mangiate questa mattina un poco del mio pane e ridete davanti a me è il pane della vita della gioia e della pace mangiate il mio pane bevete il mio vino e adesso io ho preparato il mio pane per i bugiaschi e la mia acqua per gli assetati che camminano nel deserto lasciate che il mio pane si è dato ai bugiaschi e la mia acqua agli assetati portate ai bugiaschi il mio pane agli assetati e la mia acqua pregate signore ripresentiamo tutte queste care persone li mettiamo su questo altare e li domandiamo la guarigione la liberazione la consolazione oggi è giornata di grazia per tutti intanto signore nel tuo nome diciamo ad una febbre persistente da tanto tempo la scriviamo davanti a te e domandiamo a te di comandare a questa febbre di allontanarsi da questa creatura stiamo sicuro signore che il tuo comando raggiunge in questo momento questa creatura e la febbre se ne andrà e per questo noi ti diciamo grazie signore Gesù signore Gesù che guarisci anche i tumori noi nel tuo nome diciamo a due timori di fermarsi perché è l'ordine tuo ed esse si fermeranno ed è per questo signore che noi ti ringraziamo grazie signore Gesù signore Gesù noi ti ringraziamo per quello che tu stai operando in diversi organi allo stomaco alle gambe ai reni al fegato alla testa o signore Gesù sei tu che stai operando in questo giorno perché è giorno di grazia e noi ti ringraziamo per tutte queste persone beneficate ti ringraziamo perché tu stai sciogliendo gli acci di un cuore ti ringraziamo perché tu stai sciogliendo diverse catene ed un uomo prigioniero tu dici esci sono io che ti conduco fuori non temere non temere nessuno cammina a testa alta perché io sono il signore che ti conduco grazie signore per tutte le altre guarigioni che stai operando nello spirito grazie ad una liberazione grazie anche di due cisti che scompariscono oggi stesso e ti benediciamo e ti ringraziamo e invitiamo le persone che hanno avuto qualche beneficio o agli occhi o alle orecchie o alle gambe o che si sentono toccate in questo momento dal Signore di ringraziare Lui di benedire Lui ed eventualmente di testimoniare alla fine della Messa alleluia alleluia continuiamo grazie se c'è qualche persona si prepari a testimoniare dopo intanto c'è una persona che ringrazia il Signore perché il tumore non c'è più e soltanto al posto del tumore c'è la piccola ciste ringraziamo il Signore anche questa scomparisce pregate fratelli perché il mio e vostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente che il Signore diceva dalle Tue mani questo sacrificio all'uomo e gloria del Suo nome per il bene nostro e di tutta la Sua Santa Chiesa O Dio cosa buona è veramente cosa buona e giusta nostro dovere fonte di salvezza proclamare sempre la tua gloria Signore e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo nostra Pasqua si è molato è lui il veragliello che ha tolto i peccati del mondo è lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita per questo mistero nella pienezza della gioia pasquale l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canteri inno della tua gloria Padre veramente Santo fonte di ogni santità santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore e gli offrendosi liberamente alla sua passione prese il pane e rese grazie lo spezzò lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e mangiatene tutti questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi dopo la cena lo stesso modo prese il calice e rese grazia gloria dei suoi discepoli disse prendete e bevetene tutti questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna neanza versato per voi e per tutti in remissione di peccati fate questo in memoria l'unico l'unico di gloria di gloria Il salvo a te, per la tua Alleluia, alleluia Il salvo a te, per la tua Alleluia, alleluia Mistero della fede Passiamo alla tromba, Signore La tromba e la tromba e la tromba e la tromba Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza A compiere il servizio sacerlo tale Ti preghiamo in mente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo Lo Spirito Santo ci rilisca in un solo corpo Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra Rendi la perfetta nell'amore In unione con il nostro Papa Giovanni Paolo Il nostro Vescovo Salvatore e tutta l'ordine sacerdotale Signore ricordati di noi in questo giorno In cui la Vergine Maria ha giuito con noi Per la tua resurrezione In questo giorno glorioso Per la tua resurrezione Nella realtà del tuo corpo Rinnovi in noi lo spirito Della resurrezione E rendici degni della vita eterna Te lo domandiamo per Cristo Nostro Signore Per Cristo, con Cristo e in Cristo A te, Dio Padre Onnipotente Nell'unità dello Spirito Santo Ogni onore gloria Per tutti i secoli dei secoli Alleluia 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 Ci rivolgiamo a papà del cielo Che gioisce quando vede i suoi figli Attorno all'unigenito Gioisce quando vede Che tutti i suoi figli si cibano Dalla carne di sorte dell'unigenito E hanno in lui la vita Grediamo a questo padre Tutta la nostra gioia e gratitudine Gioce Padre conso Che sei che c'è in lui Se santificato è tuo nome E' già il duello, si appassarà la tua volontà, come in cielo, così in terra, come in cielo, così in terra. E' già il duello, si appassarà la tua volontà, come in cielo, così in terra, come in cielo, così in terra, come in cielo, così in terra, come in cielo, così in terra. Come noi li rimettiamo, come noi li rimettiamo, ai nostri debitori, ai nostri debitori, Come noi li rimettiamo, ai nostri debitori, ai nostri debitori. Liberaci dal mare. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia, Vivremo sempre liberi dal peccato, e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che ci compie la veata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il Regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi abottori, mi lascia la pace, e mi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua chiesa, e dono all'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivrai nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiamoci un segno di amore fraterno. Signore Gesù, Tu è la gloria, l'onore e la benedizione. Siedi in mezzo a noi, Signore Gesù, questa sera, come sedevi in mezzo alla folla, come sedevi in mezzo agli apostoli, come sedevi in mezzo agli scepoli. Siedi in mezzo a noi, Signore Gesù, Tu soltanto sei la vita. Tu dicevi, Io sono la via, la verità e la vita. Fuori di Te non c'è via, noi restiamo smarrite per le vie di questo mondo. Tu sei l'unica via santa che conduce alla salvezza. O Gesù, Tu sei la via che conduce dalla terra al cielo. Ti chiediamo di imboccare questa via per non andare smarrite. Signore, Tu sei la verità, la verità che rende liberi, la verità che ci fa vedere come tutte le cose sono maia, sono apparenza, sono seduzione, non sono la realtà che noi cerchiamo. Tu solo sei la verità. Signore, vogliamo aderire alla verità, essere nella verità, per essere liberi da tutte le furbizie del diavolo, da tutti gli inganni del maligno, da tutto ciò che è apparenza. Noi vogliamo essere nella verità e dacci la Tua vita, quella vita che il Padre ti ha dato. Dalla anche a noi, perché anche noi viviamo. Fuori di Te c'è la morte, Gesù, ma in Te c'è la vita, unicamente in Te c'è la vita. E noi crediamo alla Tua parola e ancora questa sera proclamiamo quello che Tu hai detto, io sono la via, la verità e la vita. Siano dato e ringraziato ogni momento. E sentissimo il divinissimo sacramento. La verità e ringraziato ogni momento. Io cambierò la mia dimora nella dimora degli angeli. Io muterò la vostra sorte se voi credete in me. Io sono il Signore scesa dal cielo che abita in mezzo a voi voi mi appartenete io sono il vostro Dio stringete a me pietra viva e vivrete anche voi grazie Gesù perché tu sei la vita noi tutti moriamo siamo nella morte noi tutti siamo disperati siamo sviati noi tutti siamo ingannati ma tu sei la via la verità e la vita tu sei disceso in mezzo a noi e noi questa sera ci stringiamo attorno a te tu sei intronizzato in mezzo a noi tu sei il Signore il Signore il Signore fuori di te non c'è nessuno fuori di te c'è inganno soltanto fuori di te c'è la morte fuori di te c'è la dispressione tu sei il centro della vita Gesù traici a te e noi staremo con te per sempre Gesù 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 gloria e gloria e onore e benedizione a te Signore dei secoli a te che sei disceso in mezzo a noi a te che sei il postore nostro a te che sei tornato in mezzo al tuo regio e i loro manuni da tutte le sue dispersioni a te che dice eccomi qui sono io il vostro Dio se ho nascosto per un momento la mia faccia adesso io sono qui in mezzo a voi guardate a me e i vostri volti diventeranno pieni di luce di gioia alleluia alleluia di Dio dimora in mezzo a noi adoriamo il Signore un atto di pene Gesù è qui è vivo è indirente in mezzo a noi guardiamo a noi è vivo qua adoriamo il Signore gloria a Lui gloria a Lui gloria a Lui piegate le ginocchia scalzatemi levete le scarpe perché questa terra è santa io sono sceso in mezzo a te io sono il rovetto ardente io sono Gesù Gesù è tuo Salvatore salvi io separe le tenebre della luce il bene dal male la morte della vita aderite a me esterete nella luce aderite a me esterete nella vita sono io che separo e unisco a me chi vuole vivere chi vuole essere nella luce chi vuole essere salvato sono io qui in mezzo a voi voi siete i miei privilegiati ma che voi ve ne andate io farò sorgere da queste pietre da queste pietre i figli di Dio che mi lodino e se questi dovessero avvenire meno io farò scendere gli angeli del cielo per lodarmi in questo luogo e benedirmi perché da questo luogo gli effonda benedizione sui uomini sì signore Gesù noi siamo qui ti adoriamo ti riconosciamo signore tu anche questa sera fai tanti prodigi e tanti miracoli a questi poca gente che è qui tu signore anche questa sera ad aprire le gambe ad alcuni di noi tu tocchi le gambe di tante persone che si raddrizzano che si sentono emigrose io do forza allo stanco tu dici che tante persone che erano stanche si sentono emigorite signore tu stai toccando tante persone stai toccando la vescica di una persona stai toccando il cuore di tua persone di 60 anni il cuore di tua persone che balza l'essere di caminezza il tuo cuore sono due persone toccate dal signore il vostro cuore è guarito per chi l'ho toccato e con tumore si ferma ecco i reni di una persona che eliminano piccoli calcoli che si sgretola nella mano del signore e noi odiamo e benediciamo il signore guarisce una bambina di 5 anni guarisce una donna che da tanto tempo aveva la febbre non lo lasciava più e la febbre scomparse scompari in questo momento ti ringraziamo ti benediciamo signore perché tu opere meraviglie tu tocchi alla gola una persona che non poteva più parlare e adesso parla e come libera signore tu tocchi la nuca di un'altra persona tocchi la cervicale di un'altra persona tocchi il corpo di un'altra persona in un punto in cui essa si lamentava da tanto tempo ti ringraziamo signore perché le mestruazioni che mancavano da 4 mesi sono venute ti ringraziamo signore perché c'è una maternità in corso e la persona accerterà in questi giorni che veramente è madre che aspettava un bambino e ce l'ha già nel crembo ti ringraziamo signore perché un prigioniero viene liberato ti ringraziamo signore perché tu stai risolevando le sorti della famiglia e di tante tante grazie ti ringraziamo signore in questo momento perché tu questa sera opere meraviglia alleluia grazie signore grazie 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 Nialini ma iudiano, fermu, caranu, siro, iudiano Nialarana, chi matassi, motizano, ieri, na iudiano Marucina, locamenti, chissà, cotina, stai Malai, ano, aki, ro, ro, iudio Nialana, chi li, na iudio, ii, na iudio, sa, cotina, cotina, ma Mariane, kara, genia, matia, nosto, ro, sanashiu, tre, fa, muti Se tu credi, vedrai la gloria di Dio Toccati i polmoni perché io ti ho guarito Tocca la tua vescica, io ti ho guarito Tocca la rotola delle tue gambe, io l'ho toccato Tocca la rotola delle tue gambe, io ti ho guarito Tocca la rotola delle tue gambe, io ti ho guarito Tocca la rotola delle tue gambe, io ti ho guarito Tante volte ho bussato il tuo cuore e tu non hai sentito Anesti il tuo cuore balza nel tuo petto, sono io che ti chiamo Vieni, vieni a me, prima che sia troppo tardi A te parlo, donna, che ascolti in questo momento il mio messaggio Restituisci al tuo prossimo quello che hai tolto Il Signore, questa sede in vena di guarire, e di convertire, perché la guarigione viene da Lui e la conversione viene da Lui. Lasciamoci convertire dal Signore e lasciamoci guarire da Lui. Ecco, tu avevi un dolore ai fianchi, adesso non ce l'hai più. Alza la tua mano e grida, Signore, ti ringrazio, perché il dolore che aveva al fianco mi affiumo i Geron. Chi è questa persona? Chi è questa persona? Signore, ci sono due persone che avevano gravore ai reni, e dolore, fitta ai reni. Adesso queste due persone non sentono più né gravore né trafittura ai reni. sono pregate di alzare la mano, di identificarsi. Grazie, Signore Gesù. Un dolore di trafittura al petto, una qui proprio al centro e l'altra dalla parte del cuore. Adesso queste persone non sentono né trafittura al centro del petto, né dalla parte del cuore. Chi sono queste due persone? Grazie, grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Tu eri mesta, donna che sei qui nascosta. Adesso il tuo cuore sobbazza. Sobbazza perché ti senti colpita da Dio, perché il Signore si sta sprendendo cura di te. Ti credevi abbandonata e adesso ti senti come presa dal Signore. Sono io che ti ho preso, donna che sei in mezzo alla folla. Se vuoi alzare il tuo braccio, se vuoi dire a voce viva il tuo grazio, dirle pure. C'è una persona che è andata a Milano per un tumore alla testa, il Signore tocca e il tumore si ferma. Grazie, Signore Gesù. Alleluia a te. Signore, noi ti ringraziamo perché scendi nel nostro cuore. Scendi, Signore, nella nostra vita e cambiala. Signore, ti chiediamo di essere l'annunciatore integrale del tuo messaggio di salvezza. Quando io sono venuto in mezzo a voi, ho predicato Gesù crocifisso e risorto. Signore, va che noi predichiamo Gesù. Morto e risuscitato. Io ero vivo, sempre. Io ero morto e sono tornato in vita. Signore, tu, il vivente, sei morto e sei ritornato in vita. Questo noi vogliamo predicare. Fa che noi non basiamo la nostra predicazione spicciola su argomenti suggeriti dalla sapienza umana, ma predichiamo Cristo. Cristo crocifisso e risorto dei morti. Qui è la vera sapienza. Oh, Signore, noi ti chiediamo di vivere sotto le tue ali, sicuri, perché noi non possiamo vacillare stando sotto le tue ali. Signore, noi siamo come circondati da baluarti quando noi viviamo in te. Signore, proteggi questo popolo. Proteggi queste nostre famiglie, perché illuminate da te camminano nella tua luce. Ti ringraziamo intanto, Signore, di quelle che tu stai operando. Ti ringraziamo perché stai dando la vista a una donna ciecusiente che è qui in mezzo all'Assemblea. Ti ringraziamo, Signore, perché stai toccando l'utero vibromatoso di una persona. Essa crede di avere un tumore e non c'è tumore. C'è un vibroma che si addolcisce e sparisce. Ti ringraziamo, Signore, perché una leucemia si ferma e si ferma un'emorragia. Ti ringraziamo, Signore, perché stai toccando il polmone di una persona e stai guarendo un ragazzo da leucemia. Ti ringraziamo, Signore, perché stai contoridando le gambe di diverse persone. stai toccando la colonna vertebrale di due persone. Grazie, Signore, Gesù. E adesso consolida la nostra fede in te. Consolida la nostra carità tra di noi. Perché è nella fede in te, nella carità tra di noi, che noi possiamo partire di qui, annunciatori di una vita nuova, della vita dei risorti. Alleluia. Alleluia. Chi ha da rendere qualche testimonianza, potrà renderla subito dopo la processione e prima della benedizione. Preghiamo. Guarda con bontà, oh Signore, il tuo popolo, che ha rinnovato con i sacramenti pasquali e guidera la gloria incorruttibile della resurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Amén. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Disponiamoci per la santa processione.